partiti lord up e lupus inchimax in vantaggio poi lupus inchimax si assesta al comando davanti a roma sparita poi lord up ancora planarama quindi danno seguono poi oven force con in coda bloody man cavalli ora lungo la curva con lupus inchimax in vantaggio roma sparita in seconda posizione poi planarama lord up bloody man danno e oven force con in coda ser doubling k siamo in retta di arrivo con lupus inchimax che si mantiene in vantaggio nei confronti di roma sparita poi bloody man ancora più indietro oven force siamo a 400 dal palo in vantaggio lupus inchimax nei confronti di bloody man che sta passando poi roma sparita con all'esterno oven force siamo nelle battute conclusive con bloody man che ha preso vantaggio nei confronti di lupus inchimax quindi oven force che appariglia sul palo roma sparita andiamo a rivedere le immagini con bloody man facilissimo vincitore in questa prima corsa di napoli numero uno del schieramento samuele di ana in sella si è imposto con disinvoltura mentre lupus inchimax ha mantenuto il posto d'onore e probabilmente al terzo posto il quattro di oven force quindi il probabile ufficioso arrivo di questa prima corsa di napoli è uno tre poi molto vicini per il terzo posto il quattro di oven force e il sei di più